Sono stati veramente in tanti a riempire il giardino del Castello Bastione a Capodorlando per assistere al saggio di fine anno del centro di danza sportiva Helios Dance. Un'ora e mezza di balli che hanno coinvolto una trentina di ballerini che hanno frequentato i corsi durante l'anno. Un momento di condivisione del lavoro portato avanti sia dai gruppi di bambini che dagli emozionatissimi adulti. Ho fatto un musical dove ho ripreso Broadway, ha curato dei balli di gruppo per quanto riguarda gli adulti, i balli sociali che si ballano nelle varie ballere e poi abbiamo fatto un assaggio di ballo di coppia latino-americani. Da pochi mesi, c'è gente che viene da due mesi, tre mesi, chi un mese, siamo riusciti a convincerli, a esibirsi qui stasera sul palco. Uno spettacolo veloce e convincente condotto da Ernesto Venizi si è supportato da un ottimo impianto tecnico, ha visto alternarsi ballerini e generi musicali senza un attimo di tregua. A guidare da dietro le quinte tutto lo show Laura Bongiovanni che da pochi anni ha spostato a Capodorlando il centro di danza. Siamo stati per ben nove anni ad Acquedolci. Dall'anno scorso, da un anno a questa parte, ci siamo voluti trasferire qui perché è il nostro paese dove abitiamo. Ci troviamo molto bene e le persone che vengono da noi sono persone disponibili nei nostri confronti. A fare da cornice la suggestiva location del Castello Bastione che anche quest'anno si fa trovare pronta la stagione estiva grazie al lavoro dell'associazione Capodorlando Ovest che gestisce un ricco cartellone di serate. Dovremmo coprire intorno a 23 serate in tutta la stagione estiva. Il nostro club è La Balera che naturalmente ormai da otto anni si svolge il sabato sera sempre al Bastione per conto sempre del comune di Capodorlando che ringrazio l'ufficio turismo. I ragazzi sono gentilissimi come ogni anno a disposizione. Siamo qua, ci proviamo. È stata il 2017 e credo che ci sono degli ottimi auspici per fare bene. Noi come Castello Bastione, come associazione Capodorlando Ovest ce la mettiamo tutta, siamo presenti. Ogni anno qualcosa in più, facciamo cultura, arte, spettacolo. E quindi siamo presenti, ci siamo. Ci siamo.